L'attrice ricionese Anna Falchi protagonista del video della band bolognese Stil Novo. Il titolo del brano è Dylan Dogg ed è un omaggio al ventennale del film Della morte e dell'amore, dedicato proprio al noto personaggio dei fumetti. Anna Falchi è nel cuore di tutti i fan di Dylan Dogg perché vent'anni fa faceva il film Della morte e dell'amore, che per tutti i fan è considerato la genesi di questo personaggio. Noi abbiamo fatto un videoclip horror che è molto sulle atmosfere cimiteriali di quel film quindi per questo abbiamo pensato ad Anna e l'abbiamo contattata, lei ha accettato. La cosa che mi ha colpito molto sono le sue capacità recitative, il modo di stare sul set. Nel videoclip è un personaggio cattivo, è l'incubo del protagonista maschile che sarei io quindi una presenza inquietante con forti tratti soprannaturali nella storia del videoclip. Il brano che vede tra i musicisti anche il chitarrista Federico Poggi Pollini già sul palco con Ligabue sarà la colonna sonora del fan movie Freddy vs. Dylan del regista emergente Dennis Frisoni in uscita all'inizio dell'anno prossimo. La canzone sarà parte di questo film che dovrebbe uscire a febbraio se non cambiano le cose ed è di un regista emergente che è una star del web perché con il primo film ha ottenuto mezzo milione di visualizzazioni.